Musica Quello di fine aprile inizio maggio all'azienda agricola di Bruno e Sargio Concetti lungo la Valdaso nel comune di Montefiore dell'Aso su una superficie di 12 ettari interamente pianeggianti è un appuntamento tanto tradizionale quanto sempre molto partecipato dagli addetti ai lavori, dai curiosi e dagli appassionati. Grazie anche all'ottima accoglienza della famiglia Concetti coadiuvata dai membri Lidia Santarelli, Lia Pierantozzi e Simone Concetti le persone si sentono come a casa scegliendo di trascorrere un bel pomeriggio in pace e armonia prima di tutto con l'ambiente naturale. Da quanto tempo fate questa giornata dedicata alla fragola? Ma che la facciamo penso che sia una quindicina di anni perché ho iniziato negli anni Ottanta ma così senza pretesi, giusto per passione. Poi dopo conoscendo l'università, i professori sono iniziato a seguirmi, loro seguire me, io seguire loro e siamo partiti all'inizio solo per qualche fragoricoltore per far vedere poi dopo sono venuti i fornitori, insomma abbiamo allargato gli amici, i curiosi, un po' tutti. Beh voi avete fatto in un certo senso anche scuola. Qui viene gente, chiede i consigli, vedere, mi fa piacere, io li do a tutti e per noi è importante, per la nostra azienda perché entriamo sul mercato due mesi prima degli altri perché con la fragola per quando arriva la frutta già noi stiamo in contatto con i consumatori, i fornitori e per noi è molto importante. Le caratteristiche di questo tipo di coltivazione, quanti tunnel, come lavori? Ma qui noi abbiamo 11 tunnel, 6 per anticipare la maturazione, per iniziare la raccolta prima e 5 per raccogliere quando c'era pioggia, perché prima si faceva a cielo aperto ma capita delle stagioni dove ti piove, non puoi raccogliere, marcisce e una volta che inizia a marcire non riesci più a commercializzare niente e allora abbiamo fatto la scelta di coprire tutto e così anche quando piove noi possiamo raccogliere e commercializzare il prodotto. 11 tunnel lunghi un'ottantina di metri? 86 metri per 5 metri ogni tunnel. Quante piantine ci sono? All'incirca 22.000 piante. La raccolta, siamo solo agli inizi, come sta andando? Beh, la raccolta abbiamo fatto già una settimana. Qual è la prima qualità che si raccoglie? Quali sono le caratteristiche? La prima qualità è l'alba, una vecchia varietà che ormai da versiani però ancora non c'è una varietà che riesce a sostituirla e allora andiamo avanti con questa qui, è una qualità abbastanza buona, bella come forma, come colore e poi abbiamo l'Asia che segue una settimana più tardi poi andiamo con la Sibilla e l'ultima con Cristina. Fragola sempre prodotto apprezzato dai mercati? Perlomeno sì, certo dopo c'è la concorrenza straniera, la concorrenza, la Sicilia. Noi ecco, quando loro vanno verso la fine noi riusciamo a spuntare del buon prezzo. E poi la Valdasso è meravigliosa? La Valdasso sicuramente è una vallata che è il fiore e l'occhiello della regione Marche certo non tutte le volte è stata valorizzata per quello che è, più volte è stata trascurata però è un peccato perché la Valdasso sia con le fragole sia con la frutta, non è che lo diciamo noi, le dice chi viene da altre regioni che la frutta noce è saporita. In occasione di questa giornata le persone oltre che assaggiare le fragole, vedere le piantine, carpire i segreti della coltivazione, possono seguire il convegno che annualmente viene organizzato per conoscere le innovazioni e i progetti in atto grazie alla longeva collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Alimentari e Ambientali dell'Università Politecnica delle Marche. Noi come università siamo sempre impegnati così ormai da più di vent'anni in questo ambito, lavorando sempre sulla selezione, individuazione e selezione di nuove varietà interessanti. Noi quest'anno presentiamo due selezioni che presumibilmente il prossimo anno invece saranno varietà perché riteniamo di particolare interesse per l'adattabilità all'ambiente ma soprattutto per la qualità. Una molto dolce, molto precoce, dobbiamo ancora identificare il nome, decideremo se sarà la novità del prossimo anno, insomma il nome di questa varietà e una seconda altrettando molto buona, con un sapore più equilibrato, molto dolce ma anche con un po' di acidità. Quindi questo è un po' il risultato dell'attività che stiamo facendo un po' per questo territorio che però si espande in molte altre aree, nel senso che comunque il nostro programma è un programma abbastanza internazionale, queste varie selezioni e varietà le riconosciamo di interesse per l'ambiente nord e quindi le stiamo sperimentando anche in Francia, in Germania e presumibilmente avranno una diffusione anche in questi paesi. Allo stesso tempo però abbiamo avviato anche un programma di miglioramento genetico finalizzato più agli ambienti sud, quindi partendo sempre anche da una sperimentazione che facciamo presso queste aziende e altre aziende, trasferiamo materiale genetico anche in ambienti del sud, che significa sud Italia, quindi principalmente Metaponto, Basilicata e anche Spagna, Grecia, addirittura Algeria, Marocco e stiamo anche lì trovando molti risultati. Quindi questo piace mettere in evidenza come comunque dalla regione Marche, da questi ambienti, quelle delle aziende dell'università ma anche delle aziende che seguono un po' le attività che stiamo facendo, poi si possa originare qualcosa che abbia un impatto molto più ampio. Nell'occasione dell'incontro tecnico è stato presentato dunque questo nuovo progetto che può contare anche su un finanziamento pari a circa 440 mila euro, denominato Soluzioni Innovative per estendere la produzione e il calendario di maturazione di fragole piccoli frutti nelle Marche. All'interno del PSR della regione Marche della misura 16.1 diverse aziende hanno avuto la possibilità di accedere a dei finanziamenti e questo progetto proprio ha lo scopo appunto di evitare che cosa? Innanzitutto di introdurre nuove specie di piccoli frutti tipo il mirtillo, il lampone e altri. Invece per quanto riguarda proprio la fragola il problema più grande è che la produzione si concentra proprio in questi mesi, cioè metà aprile, prima settimana di giugno e a volte questi agricoltori hanno la difficoltà proprio di vendere il proprio prodotto perché ci sono insomma momenti dove i prezzi si abbassano. Grazie alle nuove tecniche, comunque non ci vendiamo niente, nel senso che prendiamo comunque da altre zone, possiamo arrivare a produrre fragola sia nel periodo estivo con varietà rifiorenti e sia nel periodo autunnale adottando delle tecniche culturali differenti da quello che è il classico pieno campo oppure cultura protetta o anche tipologia di pianta di fragola in questo caso per la fragola. Quindi dare le possibilità a quest'agricoltore di produrre per un periodo più lungo, quindi andare in momenti dove i prezzi sono più remunerativi e fornire anche dei prodotti diversi, quindi piccoli frutti più diversificati e quindi dare una possibilità a quest'azienda di avere più remunerazione. Fabrizio Stoppo è capofila di un progetto molto interessante che riguarda sì la fragola ma non solo. È importante avere la partecipazione di più aziende agricole proprio per provare a portare culture nuove nei nostri ambienti perché ogni ambiente ha delle caratteristiche diverse come diceva poco fa il professore. Io sto facendo provo del fuorisuolo e fuorisuolo significa produrre senza terra ma con materiali inerti, cambia un po' il sistema di coltivazione tradizionale come siamo soliti a fare nelle nostre zone. Si partirà con produzione di piccoli frutti, mirtilli, lamponi e fragole fuorisuolo, soprattutto con fragole rifiorenti con più varietà proprio per testare la capacità di queste nuove cultivar nel nostro ambiente e nelle nostre aree areali. È un po' una scommessa ma voi agricoltori pure se siete legati alla terra siete bravi anche a scommettere sulle novità. È dura cambiare mentalità, questo bisogna ammetterlo. Siamo usciti a fare questo gruppo grazie ai contributi al PSR, grazie alla Regione, grazie alla collaborazione dell'Università proprio per cercare di stimolare gli agricoltori a qualcosa di nuovo, qualcosa che speriamo di futuro, rinnoviamo un po' l'agricoltura, la nostra agricoltura. L'obiettivo è quello di espandere la coltivazione dei piccoli frutti, in particolare fragola, lampone e mirtillo, per garantire un aumento di reddito e occupazione, in particolare nelle aree marginali della Regione. Grazie a tutti!